A meno di dieci giorni dalla fine dell'anno è tempo di un bilancio per il Consiglio Comunale sulle attività svolte nel 2022. 12 mesi in cui la concentrazione si è rivolta in particolar modo sul coinvolgimento dei giovani, con numerose iniziative orientate alla conoscenza della sfera che circonda un'amministrazione comunale. 24 i consigli comunali sono stati convocati nel 2022, oltre 100 le commissioni consigliari convocate, un Consiglio Comunale che non si è mai fermato nonostante le grandi difficoltà ma che ha sempre lavorato sul confronto e sulla partecipazione. Attività che si sono anche concretizzate durante il 2022, quelle della partecipazione giovanile. La mia attività principale è stata questa, propare e proporre attraverso questi obiettivi delle iniziative specifiche. Conoscere per amministrare una rassegna di iniziative che è iniziata a marzo e terminata a dicembre, con oltre 90 partecipanti e 11 incontri in cui abbiamo provato a spiegare a tutti coloro che vogliono vivere una cittadinanza attiva come funziona il Comune, la storia del Comune, come si scrive una delibera, come vengono erogati i servizi, con tanti relatori autorevoli. E poi ti presento il Comune, un'altra iniziativa di cui vado molto orgoglioso, tuttora in corso, partita anche quella a marzo 2022, che ha visto partecipare oltre 150 studentesse e studenti delle scuole elementari, medie e superiori, con cui abbiamo anche qui fatto una mattinata, classe per classe, con spiegazione di come funzionano i processi decisionali nel Consiglio Comunale e in Comune e poi una simulazione, chi fingeva di essere sindaco, consigliere, assessore, votazione e discussione. Grazie al Consiglio Comunale abbiamo istituito il Forum dei Giovani, che in queste ore è attivo, in questo momento, l'accreditamento di tutte le realtà giovanili Under 29 e anche singoli che vorranno partecipare a questo primo organismo di partecipazione giovanile del Comune di Pesaro. Quindi dal 2023 si insedierà questo nuovo organismo che consentirà al Comune di ascoltare e di sottoporre proposte ai giovani e ai giovani di proporle esclusivamente al Comune in maniera molto più efficace. Particolare soddisfazione del Presidente Perugini è data dalla buona partecipazione in Consiglio Comunale da parte dei consiglieri durante l'intero anno, arrivando a toccare una presenza pari al 90%. Al saldo delle malattie e gli impegni lavorativi sapete, e vorrei che lo sapeste, insomma che l'impegno del consigliere comunale che toglie il tempo alla propria vita privata, alla propria vita lavorativa, è molto oneroso da questo punto di vista e sapete anche bene che non è retribuito. C'è un giottone di presenza che fa parte dei costi di cui vi ho detto prima, ma che consente comunque ai consiglieri di essere presenti. Tracciate le linee sul 2022 per il Consiglio Comunale, è già tempo di pensare ai programmi progettati per il 2023. Sull'eliminazione delle barriere architettoniche abbiamo iniziato un lavoro di partecipazione e condivisione, abbiamo e ho incaricato l'Università Politecnica delle Marche di preparare il PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e anche per il 2023 come nel 2022 organizzeremo gli Stati Generali dell'Accessibilità. Tutto questo, signore e signori, ha 150.000 euro. È una battuta per dirvi che la politica ha dei costi, il Consiglio Comunale di Pesaro e tutte queste iniziative hanno avuto un costo, che io sono obbligato a rendicontarvi, di 150.000 euro. Un caffè per ogni pesarese. Quello che ci aspetta sarà un anno certamente molto difficile, dove ancora soffriamo le conseguenze anche da un punto di vista economico per famiglie e imprese del contesto internazionale, del caro energia e di quello che ha provocato aumentando il livello di povertà all'interno del nostro territorio, all'interno del nostro paese. Naturalmente tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione sono pronte a raccogliere questa sfida utilizzando il Consiglio Comunale come terreno di confronto, di scontro, ma anche e soprattutto quello del terreno all'interno del quale fare delle politiche attive, partecipate e di poter dare delle risposte ai nostri concittadini.